Tante iniziative all'Aquila per il primo maggio. Torna il concertone aquilano per la festa dei lavoratori, l'Omaggio Fest, organizzato da Federico Congio, presidente dell'Associazione Immagina, che già l'anno scorso, in collaborazione con altri gruppi locali, diede vita all'Omaggio Fest. Nell'edizione 2018 ci saranno alcune novità, perché la musica non sarà l'unica protagonista, ci saranno anche altre iniziative. Il festival è iniziato oggi, in realtà con l'esibizione dell'Orchestra del Conservatorio Alfredo Casella nell'auditorio del Parco e poi il cortometraggio Cuore in Interscambio, realizzato dal gruppo Aquilasmus, sull'esperienza di studenti Erasmus nel capoluogo. L'auditorium nel pomeriggio ospita invece il dibattito sul lavoro e le fragilità sociali, il lavoro come strumento di integrazione con l'assessore Bignotti, rappresentanti e componenti di numerose associazioni e sindacati attivi sul territorio aquilano. Sul palco, in serata, Matteo di Genova, giovane ideatore dello spettacolo di IGSIC, di cui è anche unico protagonista, un monologo realizzato attraverso l'unione di più tecniche di recitazione, freestyle, poetry slamma. Serata con le band aquilane. Il primo maggio ci sarà lo stesso spirito di condivisione, intrattenimento e riflessione. Alle 10 il professor Colapietra, storico e scrittore, condurrà un dibattito sulla città dell'Aquila e su aspetti sociali, storici e culturali. In mattinata si esibirà la band Frustrazione, composta da giovani studenti liceali, mentre nel pomeriggio, a partire dalle 17, tutte le altre band. Nell'auditorium ci sarà anche una rassegna di giovani cantatori locali, condotta da Vanni Biordi, speaker di Radio L'Aquila 1. Durante tutta la giornata, i collaboratori del Centro Servizi e Volontariato si dedicheranno ad attività di animazione per i bambini. Ci sarà un'attività ricreativa, rustico, un gioco ideato da Gregorio Angelucci, un giovane artista abruzzese che propone in chiave abruzzese il celebre gioco di strategie a risico. Il rustico non sarà l'unica attività ricreativa del festival. Sono in programma, infatti, performance a ritiro con l'arco degli sbandieratori di Rosso L'Aquila, esibizioni di danza acrobatica e dimostrazione di live painting degli street artist Luca Zimenez, Sinarte Desk e Alessia Ianni.